La squadra mobile di Vicenza ha identificato gli autori di una rapina avvenuta il 22 ottobre scorso nel capoluogo berico ai danni di una donna di 78 anni che nel giardino di casa è stata picchiata e derubata di due monili d'oro che portava al collo, del valore di circa 500 euro. Si tratta di due cittadini originari dell'est Europa appartenenti a una banda di nomadi in trasferta in Veneto. Uno dei due originario della Croazia è stato rintracciato e arrestato in provincia di Milano, il secondo 38 anni serbo è stato catturato a Roma. Un terzo uomo, sempre di origine slava, ritenuto colui che ha rapinato e picchiato la donna, è tuttora ricercato. Il terzetto, che deve rispondere di rapina pluria aggravata in concorso, è entrato in azione in pieno giorno attorno all'ora di pranzo. L'anziana, dopo aver sentito suonare il campanello della sua abitazione, è scesa nel giardino e ha avvicinato l'uomo, che si è spacciato come poliziotto, mostrando anche un falso tesserino. Con una mossa fulmine, Alma vivente ha preso per il collo la donna, sbattendole la testa sul cancelletto, per poi colpirla con un pugno e poi strapparle i pendenti in oro.